Adesso c'è l'ultima esibizione e poi programmeremo il vincitore, anzi la copia vincitrice. Anche perché, Roberto... Dimmi, Diamanda, perdonami. No, no, perché è arrivata la fainè comunque alla fine, quindi stiamo aspettando per mangiare. Diamanda, direi qualcosa dopo. Acquidete con un grande... allora, fatemi buio in sala, grazie, Cristina Dore e il gruppo Rack Chardin. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti